crotone giovedì 8 marzo 2012 festa della donna vergogna 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 stavo scivolando intenzione di fare un video ma stavo scivolando poco fa sul marciapiede e poi mi ritrovo questo guardate che schifo che c'è a crotone in una traversa una parallela a via veneto a poca distanza da una scuola a poca distanza da corso mazzini si rimane attaccate sulla strada fango spazzatura capisco che stanotte oddio stavo riscivolando capisco che stanotte c'è stata la fine del mondo qui a crotone ma è una vergogna non si capisce ancora come il sindaco peppino vallone possa rimanere inchiodato a quella poltrona come valeva per zurlo per quello che è successo alle strade provinciali dovrebbe valere anche per il sindaco peppino vallone dimettiti dimettiti permetti ai crotonesi di tornare alle urne e di eleggersi un degno rappresentante è una vergogna